non ha registrato il box opening vabbè mi sono portato i lancieri al 10 con il libro dei libri poi 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 col libro delle carte poi con il jolly dato che ce n'avevo già uno ritengo per potenziarmi sempre lanci lì ci ho dato un raghetto infernale che scambierò più presto e basta fine adesso sto tirando uno scambio sul canno io posso dare drago inferno però non so chi chiedere